Buonasera, buonasera a tutti i nostri ascoltatori, o meglio, buonasera a tutti gli ascoltatori fissi e meno fissi dell'imprenditore e gli altri. Come ormai tutti voi sapete, noi parliamo principalmente di coronavirus, ma parliamo di coronavirus come elemento di partenza e poi parliamo di tutto il resto che gira intorno al coronavirus, un aspetto sanitario, l'aspetto economico, l'aspetto organizzativo, l'aspetto sociale, l'aspetto psicologico e l'aspetto oggi anche sociologico, direi, governativo e politico e giuridico e non mi dilungo oltre, perché quando si parla di coronavirus si può parlare veramente ormai di tutto. In questo momento come abbiamo visto siamo un po' tutti in fibrillazione per questo inizio della fase 2, questa data che è per noi italiani il 4 di maggio è una data che tutti aspentano con fervore, basta dire che i treni che vanno dal nord verso il sud sono tutti pieni, cioè non c'è più un posto da prenotare in quei treni, perché tutti tornano a casa, tutti quelli che erano rimasti bloccati al nord. Quindi ci sarà una rimescolanza, diciamo che si andrà a testare realmente la tenuta in questo momento della nostra nazione. Molte regioni si stanno staccando dall'ordinamento, direi, governativo. Potrei anche dirvi che l'ordinamento governativo in questo momento gli ordini che arrivano dal governo sono un po' confusi, perché il governo ha dato delle date prima, 18, primo di giugno, poi è corso un po' ai ripari, perché tutti gli aiuti economici che dovevano arrivare non sono di fatto arrivati, il decreto aprile è slittato al mese di maggio. Quindi insomma tante cose sono cambiate tutte negli ultimi due o tre giorni. Andrà bene? Andrà male? Non lo so. Noi ne parleremo stasera con il nostro ospite fisso, che io amo dire essere il mio co-conduttore, cioè il rettore dell'Università Nicolò Cusano, il professor Fabio Fortuna, l'economista Fabio Fortuna. Buongiorno, buonasera anzi, da quando lei ha questo sfondo nuovo e diverso, devo dire che mi lascia sempre... No, è una cosa... Però con questo sfondo voglio che da qui davanti lei metta delle camicie scure, perché lo sfondo è chiaro, lei è chiaro e alla fine sparisce tutto, sembra quasi una magia. Le gravatte vogliono la camicia bianca o celeste, non la posso mettere... È qui che la volevo, adesso lei... Guardi, le voglio dire una cosa per rispondere alla sua vanità. Già stasera il suo collegamento era un po' così e l'abbiamo messo a posto noi dalla regia, quindi ho capito... Lo sa perché? Le lo spiego, scusi, per un po' 10 secondi, perché essendo andata via la connessione, sono saltate le impostazioni video di Skype e quindi era scattato il colore tutto al massimo. Poi avete regolato voi, ma adesso l'ho risistemato anche... No, però le voglio dire che da quando ho capito il potere che noi abbiamo qua, perché lei era veramente brutto, visto così, come le vedevamo prima, quindi ora io da qui in avanti so anche... No, perché voglio farle diminuire periodicamente i suoi fan, quindi ogni giorno cercherò di eliminare qualcuno... Va bene, a parte gli scherzi e le battute, vediamo di fare entrare invece immediatamente una persona importante, il senatore Adolfo Urso di Fratelli d'Italia, vicepresidente del Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica, Copi Sir. Ho detto male? No, ho detto benissimo. Ho avuto fortuna, ho avuto fortuna. Allora, senatore, oggi con lei vorrei trattare una serie di argomenti, ma vorrei partire dal più facile, dal più semplice. Fase 2, inizio 4 novembre, 4 maggio. Mi sono portato in avanti per un fattore di sicurezza, 4 novembre, ho sbagliato tanto. Secondo lei è il momento giusto? Ci sono tutte le cose che servono per farlo? Perché forse le domande sono due. Momento giusto è o non è? E se fosse il momento giusto? Abbiamo tutta l'organizzazione giusta per poter iniziare questa fase 2. Gli italiani l'hanno capita bene, il governo l'ha spiegata bene. Sappiamo cosa fare giorno per giorno per non tornare indietro, voglio dire. Guardi, a me dispiace dirlo, perché questo è il mio paese e questo è il mio governo. Ma ho l'impressione che ci si stia muovendo, che il governo si muove su questa fase 2, come se fosse un'armata a Branca Leone, in cui non si capisce quale sia la rotta, quale sia la direzione, quale sia la terra promessa, ma si intravede soltanto una grande confusione con provvedimenti annunciati e poi cambiati in corso d'opera, come quello che è accaduto anche oggi, in riferimento a chi sia il congiunto che noi potremmo incontrare. Interessante questo fatto. Questo davvero dispiace, perché ci vorrebbe invece molta chiarezza e una estrema precisione nella programmazione della ripartenza. Di fase 2 non se ne può parlare affatto, ne parleremo verosimente a metà maggio, forse ancora dopo. Però, Urso, per esempio in Sardegna l'11 di questo mese, è notizia di pochi minuti fa, diciamo di questa giornata, di questo pomeriggio, l'11 di maggio partiranno anche i parrucchieri, i ristoranti, cioè partiranno tutto. La Sardegna si stacca un po' da ciò che ha detto il governo, facendosi forte del fatto che oggi ha avuto anche oggi soltanto due infettati e dice noi partiamo. Ora, la domanda è questa, il governo come mai non ha stabilito prima, perché questa dimogenezza, cioè questa situazione così confusa mette un po' i cittadini a disagio, il fatto che adesso dal lunedì tutta una serie di persone che erano bloccate al nord arriveranno e si precipiteranno al sud, quindi rimescoleranno giustamente le cose, qualcuno dal sud andrà al nord e poi tornerà indietro, cioè è una fase 2 organizzata o poteva essere organizzata meglio? Perché oggettivamente oggi ci sono 1900 nuovi infettati, 1800 infettati, stanno in sei regioni, la verità è questa? Sì, la casistica ci dice che in questo caso, ancor più in questo caso, soprattutto in questo masso sono emerse delle differenze sulla propagazione del contagio per tanti motivi, anche regioni che hanno saputo reagire meglio, una per tutti, la regione Veneto, che è stata la prima colpita, la più grave colpita e che invece ha saputo gestire molto bene la pandemia al punto tale che l'ha messa sufficientemente sotto controllo e giustamente essendo stato un modello tra i tanti nel contrasto al coronavirus, un modello di efficienza, oggi dice ma io ho stato un modello di efficienza nella fase 1, l'ho dimostrato con questa sanità di prossimità nel territorio, vorrei esserlo e vorrei dimostrarlo anche nella fase 2 e noi vorremmo riaprire anche perché siamo uno dei motori, tra i principali motori economici del nostro paese, questo viene dal Veneto, è anche vero che le diceva che sono regioni come la Sardegna, l'insularità lo ha favorito sicuramente, che non hanno casi tali da dover determinare la chiusura delle attività, cosa voglio dire? Che il governo forse avrebbe dovuto avere chiarezza, fare chiarezza anche al rapporto con le regioni e consentire alle regioni che lo possono fare di aprire prima delle altre e nel contempo consentire a quelle attività economiche che sono attrezzate a farlo, di aprire già da ora prima delle altre, avrebbe dovuto dare un prontuaglio chiaro di quali sono le condizioni che ciascuno di noi, esercizio commerciale piuttosto che attività produttiva, attività ricreativa piuttosto che attività culturale, rispettando quelle regole, quelle regole sul distanziamento sociale, quelle regole sulla sanificazione del locale, quelle regole riguardo all'utilizzo degli strumenti appropriati, mascherine, tutto quant'altro, avendo la possibilità di rispettare quelle regole non vedo perché non dovrei riaprire. È importante che vi sia chiarezza, è importante che vi sia chiarezza nei confronti del Parlamento. Lo dico e chiudo. Noi abbiamo di fronte due esempi concreti, di due paesi a noi vicini per tanti motivi. La Francia e gli Stati Uniti. Due repubbliche presidenziali, semipresidenziali o presidenziali, in cui il Presidente della Repubblica ha ampi poteri perché retto dal popolo, direttamente dal popolo. Ebbene, in queste due grandi democrazie presidenziali, in Francia il primo ministro è venuto prima in Parlamento, ha spiegato con chiarezza al Parlamento qual era il programma del governo per la riapertura e dopo il dibattito parlamentare, dopo il voto parlamentare, hanno dispiegato i provvedimenti. Negli Stati Uniti è ancora più chiaro. Donald Trump, considerato un autocrate che lavora e decide per Twitter, quando c'è stata la pandemia, la prima reazione alla pandemia, si è rivolta al Partito Democratico, ha concordato i provvedimenti col Partito Democratico e poi, una volta concordati col Partito Democratico, li ha portati in congresso e sono stati approvati all'unanimità. In Italia, che non è una democrazia presidenziale, il cui Presidente del Consiglio non è stato eletto da nessuno del popolo, non era nemmeno candidato, è stato eletto dal Parlamento, invece si è operato per DPCM senza nemmeno ascoltare né le opposizioni né le regioni. Ma è una cosa, obiettivamente, che persino il Presidente della Corte Costituzionale ha dovuto rilevare quando ha detto che non si può creare un vulnus alla Costituzione. Questo problema, che è un problema di Costituzione e comunque di ordinamento, rifletta un atteggiamento, che è quello di un'armata Brancaleone, che agisce per annunci e poi nega i provvedimenti, le cambia in corso d'opera, una confusione... Allora, le voglio dire una cosa, Urso. Urso, le voglio dire una cosa. Io, quello che lei ha detto, è chiaro, inutile risottolinearlo. Lei dice, dove c'è una Repubblica presidenziale o una Repubblica semipresidenziale, comunque siamo andati alla Camera, siamo andati in Parlamento e questi Presidenti hanno parlato, hanno trovato un accordo e poi c'è stata comunque una linea comune e quindi si è andati avanti. Qui, dove c'è un Presidente del Consiglio, che in questo caso, neppure era un candidato, comunque sempre Presidente del Consiglio è, questo Presidente del Consiglio, oggi con il suo governo, va avanti da solo, non ha nemmeno riunito il Parlamento, al punto comunque che anche la sua stretta maggioranza, in certi casi, diventa critica nei suoi confronti, di ieri le critiche del PD e le critiche di Renzi, insomma. Ma guardiamo un attimino più avanti e con un'ottica un po' diversa, anzi vorrei spostarmi e cambiare angolazione. Io, Urso, ho avuto un'impressione, siccome non faccio il conduttore televisivo, io faccio l'imprenditore, e allora questa trasmissione si chiama l'imprenditore e gli altri e io da imprenditore le voglio dire la mia impressione. Il governo aveva un'idea e se l'era disegnata questa idea, però la base di questa idea, il nocciolo di questa idea era anche aiuto il popolo a stare in vita e quindi mando cassa integrazione, mando sordi alle piccole e medie imprese, riesco, insomma, a sopperire al guaio che viene fuori o almeno in parte al guaio che è venuto fuori nel mese di marzo e nel mese di aprile. In sintesi, le banche non hanno risposto nella maniera adeguata perché il governo alle banche si era affidato, le banche in prima battuta in realtà sono partite tentando di fare qualcosa, ma forse l'hanno interpretato male, non l'hanno fatto nel modo giusto. Fatto stare, agli italiani i soldi non sono arrivati. E allora, l'impressione mia è che all'improvviso nell'ultima settimana stia cambiando tutto e negli ultimi addirittura due o tre giorni si è anche peggio. Faccio un esempio del Lazio, dove oggi viene fuori la mascherina nel Lazio dal lunedì chi è fuori la deve portare anche camminando per strada. È una novità. Quindi non c'è nessuna programmazione, c'è un'improvvisazione dovuta al fatto che sono cambiati dei parametri, cioè non ci sono i soldi. Ho un'impressione sbagliata, Urso? Purtroppo la realtà e le dico alcune cose, il governo ha fatto prima un decreto cura, noi chiedemmo 30 miliardi loro dissero 7 miliardi poi hanno capito e ne hanno fatto 25 miliardi ma il decreto cura ha curato veramente poco quasi per nulla. Poi è stato fatto un decreto cosiddetto liquidità annunciando in conferenza stampa che ci sarebbero state 400 miliardi per le imprese italiane. In realtà nel decreto liquidità non c'è liquidità perché se uno legge le carte del bilancio si rende conto di 400 miliardi nel decreto liquidità ce ne sono due di miliardi due parlo due miliardi non 400 miliardi da 400 a due ne mancano solo 388 ma in realtà la liquidità non è arrivata per le imprese. Poi hanno annunciato il decreto aprile e il mese di aprile è passato e il decreto semmai uscirà quando uscirà 55 miliardi sarà decreto maggio e vedremo cosa. Nel frattempo cosa ha fatto l'Europa? Bene io l'altro ieri ero in Senato sono intervenuto su questo e poi l'ho chiesto espressamente a Ministra Mendola vi rendete conto che di quello che l'Europa ha messo in campo meglio ha autorizzato gli stati a spendere perché l'unico provvedimento serio l'abbiamo chiesto a noi per primo io per primo al Senato già a fine febbraio è stato quello di chiedere che siano superati i vincoli del patto di stabilità cioè l'Europa ha detto va bene per quest'anno niente vincolo del patto stabilitario ogni stato può spendere vi autorizzo a spendere e mi presentate i provvedimenti che vi autorizzo le sa a ieri quanti miliardi l'Europa ha autorizzato gli stati a spendere 1800 miliardi 1800 miliardi che gli stati hanno messo in campo in queste settimane bene di questi 1800 miliardi sa quanti ne ha messo in campo la Germania quasi mille il 55% delle risorse che l'Europa ha autorizzata finché gli stati li possano spendere sono state autorizzate alla Germania il 55% il 20% la Francia e all'Italia meno dell'8% il che vuol dire che cosa che il denaro sta aggiungendo già in questi giorni anzi è già giunto all'impresa che erano già più forte e più liquide di quelli italiani mentre non giunto all'impresa di lo Stato che ne ha bisogno senatore senatore scusi questa parte ce la deve spiegare meglio perché noi camminiamo per strada tutti i giorni non l'abbiamo capita il rettore vorrei che anche lei seguisse questa parte che voglio il suo parere io è la prima volta che sento dire questa cosa vediamo se ho capito così poi lei me la rispiega meglio l'Europa ha stabilito di tirare fuori dalle proprie tasche 1800 miliardi veri di soldi di liquido prego no l'Europa ha detto questo già un mese e mezzo fa due mesi fa sì i vincoli di patto di stabilità non valgono per quest'anno i vincoli di patto di stabilità cosa significa significa che noi tutti i paesi europei dobbiamo non avere un deficit per l'anno superiore al 3% del prodotto interno ok ma non vale quest'anno è riuscito a fare il primo provvedimento di 30 miliardi di cui 25 miliardi in ulteriore deficit e per questo ieri abbiamo votato un altro scostamento di bilancio di 55 miliardi che consentisse il VAR cioè ci stiamo indebitando di più di quanto il governo italiano ci dice che quest'anno ci indebiteremo come è stato di un altro 20% del PIL dal 135% del debito pubblico possiamo al 155% del debito pubblico altro debito sui nostri bene l'Europa ha detto siete autorizzati a indebitarvi presentatemi i progetti per cui io vi autorizzo a spendere denaro nazionale attenzione non europeo ma vi devo autorizzare l'Europa ha autorizzato gli stati a spendere a questo momento ha autorizzato la spesa degli stati pari a un complessivo di 1800 miliardi la Germania avendo un surplus ha speso lei sola ha già dato alle proprie imprese lei sola quasi il 55% della montagna di risorse che l'Europa ha autorizzato gli stati a spendere l'Italia che non ha in questo momento risorse ma si deve indebitare ulteriormente ne ha spese appena l'8% il che cosa significa che se l'Europa perde ancora tempo nel decidere le misure europee sia la Shure 100 miliardi appena l'assicurazione europea la Bay appena 200 miliardi di preside ossia anche i recovery bond se mai arriverà e vedremo le condizioni comunque ogni giorno che passa la Germania rafforza le sue imprese e ogni giorno che passa l'Italia indebolisce le imprese e quindi il divario la semmetria dei popoli del nord e quindi si aggrava ogni giorno di più senatore e infatti ecco qui che arrivano i problemi i problemi sono per esempio le banche italiane lo dico anche al rettore le banche italiane nel mirino delle banche tedesche perché la Germania avendo distribuito a questo punto abbiamo capito mille miliardi alle proprie aziende ha un mercato in questo momento molto più forte noi 120 miliardi fra una chiacchiera all'altra ma manco ci siamo arrivati quindi le banche italiane il rettore sono a rischio di essere acquistate dalle banche tedesche? No io credo che il senatore sia molto arrabbiato ha fatto un quadro che corrisponde anche alla realtà ma con degli accenti veramente notevoli il paragone con la Germania onestamente non si può fare lo sa meglio di me se noi ci paragoniamo alla Germania ci suicidiamo il giorno dopo ma mica perché sono più bravi i tedeschi noi siamo molto più bravi è perché veniamo da anni di disastri non è che cominciano adesso i disastri per cui noi ci siamo presentati all'inizio di questo anno in una situazione già distenti sotto tutti i profili che deriva da anni io non parlo di politica parlo di situazioni reali di economia reale di giudizi maturati nell'ambito internazionale nei confronti dell'Italia che sono frutto evidentemente di scelte pluriannali in più la sciacura si è abbattuta sul nostro capo e per cui adesso la situazione è molto grave il fatto che la Germania abbia già dato mille mediati alle imprese noi spesso anche nella sua trasmissione abbiamo detto che Germania Francia Svizzera hanno operato in un modo totalmente diverso mentre noi abbiamo parlato di pioggia di denaro ma il denaro non si è visto e qui sono perfettamente d'accordo Germania Francia Svizzera direttamente sui conti correnti di famiglie e imprese hanno fatto affluire il denaro però che abbiamo dato mille miliardi alle imprese potarsi che sia un dato che a me non è conosciuto non mi risulta in questa parte è un dato ufficiale della commissione europea dopo il mio intervento ma non che già li ha elargiti alle imprese che sia una potenzialità è differente rettore però scusi rettore risulta che abbia già elargito 350 miliardi ho capito noi non abbiamo elargito nemmeno un euro ma perché stiamo facendo il paragone con la Germania sono due cose completamente impregnabili il rettore ha ragione quando dice una cosa noi rispeziamo state l'unico paese dell'unione europea e l'unico tra i grandi nel mondo a non recuperare il livello produttivo dell'anno 2007 cioè di prima della crisi in questi anni di crisi iniziate nel 2008 tutti i paesi persino la Grecia poche settimane prima della coronavirus erano riusciti a recuperare perlomeno i livelli produttivi del 2007 l'Italia purtroppo no quindi già era particolarmente indebolita sulle banche assicurazione però io vorrei essere molto chiaro io sono stato l'autore di questa estensione della Golden Power alle banche assicurazione perché sin dal 4 di marzo ho reclamato con un disegno di legge che il governo estendesse la Golden Power cioè lo scudo protettivo nei confronti di attacchi ostili nei settori delle banche delle assicurazioni figli sanitari e alimentari cosa che il governo ha fatto col decreto liquidità cioè due mesi dopo fortunatamente ricevendo le nostre indicazioni e anche di estenderlo nei confronti di attacchi ostili di soggetti dell'Unione Europea cosa che prima non era possibile anche se in fase soltanto direi temporanea straordinaria e banche assicurazioni perché banche assicurazioni diciamocelo con franchezza noi abbiamo già perso il controllo delle nostre banche e abbiamo salvato per un pelo il controllo della nostra multinazionale assicurativa cioè delle generali abbiamo perso il controllo di gran parte del sistema bancario del nostro paese e qui infatti non a caso il Copasir aveva già attivato su mie richieste un'indagine conoscitiva sul settore banche e assicurazioni questa settimana per intenderci su questo campo abbiamo audito in forma segretata il direttore generale della Banca d'Italia Franco che è anche il presidente dell'Ivas delle assicurazioni abbiamo già udito i servizi segreti la Conso e la prossima settimana lo diremo gli altri soggetti tutti i riunioni segretate cosa sappiamo e di cosa vorrei parlare con molta franchezza in questo momento laddove il problema per l'Italia è soprattutto quello della liquidità questo vale sia per quanto riguarda lo Stato che deve rinnovare i titoli pubblici ma soprattutto deve metterli di nuovi per coprire questo 200 questo 20% in più di debito che stiamo accendendo salendo dal 135% al 155% del PIL 20 punti in più quindi nuovi titoli di Stato ha bisogno che vengono rinnovati chi li ha chi la possibilità di rinnovarli o di acquistarli di nuovi le banche e le assicurazioni che detengono in buona parte il debito pubblico italiano quindi abbiamo bisogno che questo polmone finanziario delle banche e delle assicurazioni che comprino titoli italiani sia pienamente funzionante per dare ossigeno al corpo Italia l'altro polmone che le banche e le assicurazioni possono assicurare è il finanziamento appunto alle imprese e alle famiglie tanto più importante oggi per la crisi per la paralisi del sistema produttivo se questi due polmoni quello che alimenta attraverso i titoli di Stato la stabilità finanziaria dello Stato e quello che alimenta l'impresa non funzionano a pieno regime collasse il sistema Italia qual è il rischio però mi scusi e che le nostre banche non sono più in buona parte in mano italiana ecco Urso però mi scusi perché io ho un altro piccolo problema che mi sembra sia sfuggito e stia sfuggendo un po' alla politica italiana allora in questo momento le imprese italiane sono rimaste chiuse le imprese italiane dovrebbero pagare delle tasse con del denaro che hanno già in banca ma chi non ha denaro in banca non potrà pagare certe tassazioni lo Stato italiano non ha dato liquidità perché questi soldi non li ha lei ora mi dice una cosa per me ancora più drammatica perché deve emettere dei titoli che dovranno essere comprati ma è un'operazione lunga e faragginosa che non richiede un minuto detto questo scusatemi lei rettore mi ha detto prima non ci possiamo paragonare alla Germania allora sarà meglio che impariamo il tedesco perché entro breve parleremo tutti il tedesco oppure in Italia andremo a fare cartoni rettore scusatemi voi fate gli economisti e i politici io faccio l'imprenditore guarda io più che la Germania per quanto riguarda il settore bancario e assicurativo mi preoccuperei della Francia sì però mi permette a parte il settore bancario no però fatemi finire a parte il settore bancario e assicurativo e se non mi preoccuperei scusi se la interrompo l'altro problema che noi abbiamo è che abbiamo presente in Italia Deutsche Bank lei sa che il sistema bancario tedesco è profondamente malato ma i tedeschi assolutamente hanno usato i soldi giusti il problema dell'Europa è come dire la malattia che pervade il sistema bancario tedesco che è molto meno solido di quanto si voglia da dire e perché è meno solido perché il sistema bancario tedesco è fatto di grandi banche che sono sottoposte alla BCE pochissime al controllo della BCE e delle banche medio-piccole banche dei Lander controllate dalla regione la vigilanza della banca tedesca a differenza di quella italiana ora noi sappiamo che la vigilanza della banca tedesca è stata molto tollerante nei confronti delle banche dei Lander che hanno prestato denaro alle imprese a più non posso e nel contempo sappiamo che i giganti tedeschi a cominciare dal Deutsche Bank hanno nella loro pancia quante decine di migliaia di miliardi di derivati pochi lo sanno forse io lo so no lo sanno tutti e che quindi possono lo sanno tutti possiamo dire 50 mila miliardi solo 250 di derivati il che vuol dire e questi derivati sono un problema il che vuol dire che a me che si voleva realizzare e che in parte si è già realizzata ancorché non è stata sottoscritta la riforma del MES non quella del fondo sanitario di emergenza sanitaria ma la riforma del MES come riforma è davvero un tentativo di trasformare il MES da salva stati a salva banche tedesche perché il rischio che le banche tedesche saltino e dietro l'angolo Urso però mi faccia capire una cosa Urso Urso i 50 mila miliardi di derivati è un numero che le ha dato a caso o è un numero che le ha dato diciamo che l'ho sparato a caso ma non so se mi sono molto allontanato da questo rettore i derivati è tutto un discorso particolare no rettore a parte particolare se saltano 50 mila miliardi di derivati non salta il sistema non sono tutti a rischio non sono tutti spazzatori ci mancherebbe altro voglio dire che è un sistema che è monitorato a sufficienza da chi lo deve allora fatemi dire una cosa che il tempo è tiranno io vi dico solo questo le imprese italiane dovrebbero pagare le tasse perché comunque il governo italiano dovrebbe poi utilizzare questo denaro per rilanciare la nostra economia le imprese italiane non ce l'hanno i soldi per le tasse non hanno i soldi in questo momento per poter pagare lo Stato non ha saputo far fronte a questa situazione ora riapre secondo me in maniera molto molto stupida tutti i giochi dico stupida perché se riapre allo stesso modo nelle regioni che fanno 1800 malati e allo stesso modo nelle regioni che ne fanno 100 cioè 13 regioni fanno 100 malati e 7 regioni ne fanno invece 1800 vuol dire che noi entro breve ci richiuderemo tutti nelle gabbiette per quanto riguarda il Veneto che voi avete detto ha funzionato bene ancora oggi il Veneto sta a 140 malati se il Veneto ha funzionato bene la Sicilia ha funzionato divinamente la Sardegna è a livelli stratosferici batte la Germania perché vi ricordo anche che a livello di coronavirus il virus è iniziato a coeganio si chiama coeganio perché gli eugani stanno in provincia di Padova cioè il Veneto insieme alla Lombardia sono stati colpiti per prima in maniera evidente e quando ancora non si capiva che cosa fosse il virus non dimentichiamoci che le notizie che giungivano false dalla Cina la Cina ha gravissime responsabilità e dovrà rispondere a mio avviso al Tribunale Internazionale a proposito di questo le notizie che venivano diffuse dalla Cina e l'Organizzazione Mondiale della Sanità dicevano fino a poco tempo fa e che gli asintomatici non trasferivano il virus cioè totalmente false i cinesi hanno sbagliato hanno fatto un po' una cosa così una cosa Uzzo lei ha detto anche che la politica estera di avvicinamento alla Cina è pericolosa è l'ultima domanda lei pensa che noi siamo un po' in bocca ai cinesi in questo momento? ma sicuramente sì noi siamo in bocca ai cinesi e stupidamente le die condato lo scorso anno a gennaio è stato firmato l'accordo della Via della Seta e con essi altri decini di accordi collegati noi lo criticammo gennaio dello scorso anno 2019 Di Maio rispose colui Compe che questo avrebbe dischiuso aperto i mercati cinesi all'exporto italiano sa le statistiche istat confermate dal governo nel documento economico e finanziario come sono andate le esportazioni italiane in Cina nel 2019 l'anno della Via della Seta no per la prima volta nella storia dell'economia globale dal 2001 ad oggi per la prima volta le esportazioni italiane in Cina invece di aumentare sono diminuite lo scorso anno 2019 è stato il primo anno nella storia dell'economia globale in cui l'exporto italiano in Cina invece di aumentare è diminuito mentre è aumentato notevolmente ancora l'exporto cinesi in Italia avevano detto che accadereva esattamente il contrario che le arance siciliane avrebbero inondato i mercati cinesi e con essa la tecnologia italiana che i cinesi firmando quegli accordi aprimano i loro mercati l'hanno aperto talmente che il diminuito l'exporto prima del coronavirus nel 2019 che cosa vuole dire contro quello che sta dicendo Urso in questo momento l'ha fatto per altri motivi o per incompetenza o per altri motivi aspetti Urso che oggi il rettore svolge appieno il suo ruolo di oppositore detto questo che cosa vuole dire su questo argomento mi sembra che il senatore peraltro simpaticissimo ti conosciamo da tempo ma questa sera sia pessimista sotto tutti i profili ha ben ragione ma è pessimista ha dato dei numeri se noi abbiamo esitato meno vabbè se i numeri si danno tutti in modo unilaterale è chiaro che il pessimismo esplode però voglio dire io sono allarmato si ha ragione è quello che conosce da quello che leggo no no ma ascolti lei ha ragione ad essere allarmato perché la situazione è complicata è complicatissima però voglio dire è facile oggi io quando rimango con Bandecchi in trasmissione alla fine lui mi chiede le buone notizie non ci sono è difficile trovare no le buone notizie ci sono sai cosa penso io sì vabbè ho capito fino adesso penso che sta risorgendo nel nostro paese lo spirito nazionale penso che la crisi sia veramente grave come a caporetto noi siamo a caporetto dell'economia italiana per motivi esterni il coronavirus che ha colpito un corpo già debole e penso che nel paese si siano già manifestati gli anticorpi cioè la gente si sta ruolando per arrivare al piale a destra come a sinistra non c'è differenza penso che sta nascendo finalmente una nuova coscienza nazionale che accumulerà mi auguro la classe dirigente non solo di questo paese perché ritengo che è il momento che si faccia scusi urso la classe dirigente di questo paese dobbiamo cambiarla intanto va bene comunque urso ci penseranno gli elettori mi scusi sì le prossime elezioni la gente vedrà che va con sei mani e vuole almeno tre penne ma comunque andrà con i guanti perché con i guanti ma con i guanti tutte le mani con i guanti va bene urso io la ringrazio la ringrazio per adesso beh con la mascherina sarà simpatica possiamo andare a buttare anche tre volte con la mascherina va bene urso la saluto buona serata arrivederci buona serata arrivederci rettore no niente non ti faccio questa domanda no il saluto cioè ah no sbagliato va bene va bene va bene no e che volevo dire lei oggi fa il comunista adesso poi dice a me e dai detto questo detto questo rettore non ho detto niente sulla scena perché stavo per mettere la musica delle valchirie stavo per dire a me l'odore del napo alla mattina mi dà un senso di vittoria e lì saremo partiti comunque andiamo avanti pubblicità abbiamo la pubblicità un minuto e venti di pubblicità arriviamo tra un attimo non si faccia non vada ad abbronzarsi sul balcone pubblicità Radio Cusano TV Italia siamo in emergenza ma la campagna non si ferma e gli agricoltori di Campagna Amica sono nei campi al lavoro per garantire a tutti i cittadini cibo sano sicuro e di qualità col diretti in tutta Italia sta portando la spesa a casa degli italiani basta andare sul sito campagnamica.it e cercare la lista di tutte le aziende e gli agriturismi che in questo periodo complicato stanno continuando a portare le eccellenze del territorio sulle nostre tavole l'agricoltura è vita tu sostienila segui e supporta l'hashtag Mangia Italiano Toscano è vicina a tutti gli italiani in questo momento difficile in cui dobbiamo stare a casa grazie alla nostra tecnologia per vendere e comprare casa noi rimaniamo operativi e in contatto con voi insieme ce la faremo con Frontline Triacta Triplazione mentre lui corre scopre esplora gioca tu proteggi la sua libertà Frontline Triacta Triplazione azioni mirate e di lunga durata azioni in setticida su papataci zanzare pulci e zecche azione repellente su papataci zanzare e zecche è un medicinale veterinario leggere attentamente il foglio illustrativo non usare nei gatti e conigli proteggi la sua libertà con Frontline Triacta Radio Cusano TV Italia buonasera buonasera dottor Moretti vice direttore del messaggero del quotidiano del messaggero sbaglio? assolutamente no perfetto sono stato fortunato una volta noi ci davamo del tu era tanto tanto tempo fa eravamo due molto più giovani i tempi della radio e un sacco di altre scorribbande che si sono fatte ci siamo trovati anche in molti studi insieme forse Stefano non se lo ricorda però volendo come volete come preferite e allora diamoci del tu voglio dire anche con il rettore dai prendiamo il tu Alvaro sì 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 un po' più degagé va bene non è assolutamente un problema tanto le cose che dobbiamo dire ce le diremo comunque anche dandoci anzi sarà più facile dirle dandoci del tu perché per esempio io ho una prima domanda primo ringrazio di essere qui ospite da noi io sono anche un lettore assiduo del messaggero devo dire che è un giornale che uso come punto di riferimento specialmente per quanto riguarda oltre le cose nazionali ma anche il Lazio Roma perché sono sempre degli approfondimenti molto interessanti e allora parlando non ti illudere lo dici a tutti tutte le sere tutti i giornalisti lo dico lo dico a tutti i quotidiani diciamo che ci sono nel Lazio che iniziano con M quindi messaggero mi sembra che ha detto questo detto questo io sono un po' preoccupato di un fatto non eccessivamente però dico a parte il centro che oggi ci ha dato 22 malati questa RSA dove sono venuti fuori i 22 malati speriamo che si fermi a 22 malati però rispetto a ieri Roma levando questi 22 infettati nuovi avrebbe avuto comunque ben 11 infettati in più rispetto al giorno prima perché gli infettati dell'Azio di oggi sono tutti romani ora numeri sempre bassi per i 3 milioni di cittadini che Roma ha però il 4 si riaprono i giochi siamo tutti molto volenterosi a camminare e scopriamo così all'improvviso che c'è qualcosa che forse non va tanto è vero che il presidente della regione oggi in così in emergenza dice mascherine per tutti anche camminando per strada beh allora intanto partiamo dal presupposto questo territorio poteva sicuramente essere molto più esposto non lo è stato sicuramente la strategia utilizzata nel Lazio è stata una strategia vincente così analogamente a quello che è successo in altre regioni ma ricordiamo sempre che il Lazio quindi Roma quindi Fiumicino sono la porta d'ingresso dalla Cina e ricordiamo anche tante polemiche che si sono fatte all'inizio quando c'è stata la famosa chiusura dei voli non sufficiente perché abbiamo scoperto che laddove adesso purtroppo si piange la più grande tragedia del dopoguerra di questo paese quindi parlo del nord in particolare la Lombardia il virus è arrivato ovviamente diciamo di rimbalzo come si temeva inizialmente proprio perché magari chiudendo restringendo l'imbuto nella parte di accesso principale che poteva essere appunto Fiumicino ricordiamo i voli settimanali per Wuhan che c'erano in questa città eccetera eccetera però sono arrivate in un'altra direzione c'è chi dice dalla Germania noi sappiamo a questo punto ormai è abbastanza chiaro che a gennaio già circolava il virus però fondamentalmente con una strategia diversa che è stata quella di prima di tutto chiudere i focolai anzi diciamo i cluster perché la verità è che il Lazio non ha avuto nemmeno un focolaio vero e proprio abbiamo avuto adesso di recente alcune zone rosse per diciamo un grande tempestività pensiamo a Campagnano pensiamo ovviamente alla primissima Fondi che poteva essere una situazione molto complicata è stata secondo me molto ben gestita la fortuna di questo territorio di avere ovviamente l'eccellenza come lo Spallanzani e noi con il Messaggero stiamo sostenendo una campagna di raccolta fondi per lo Spallanzani e per il Gemelli e lo facciamo perché secondo me è giusto che la gente premi il lavoro non tanto adesso nella quale diciamo stiamo un po' in qualche maniera esaltando l'aspetto anche eroico di questo personale eccetera però noi ricordiamo che per l'intero anno precedente allo Spallanzani non c'è stato non risulta nessuna morte legata a a infezioni voglio ricordare che i sanitari dello Spallanzani fronteggiano questo questo virus a partire dal paziente 1 paziente 2 cioè la coppia dei cinesi da ormai tre mesi e non risulta al momento alcun contagiato nel personale medico dello Spallanzani è tutta la differenza del mondo c'è qui adesso è chiaro che noi il virus ha girato gira un territorio come questo dove in tutto il Lazio insomma siamo oltre 5 milioni ricordiamoci sempre che Roma è alla fine il sole di un sistema solare che attrae altri pianeti ovvero diciamo i lavoratori da tutte le altre cittadine del paro scusa che ti interrompo quindi questa è la dimostrazione intanto che l'eccellenza non si raggiunge solo al nord perché il primo è stato il Cotugno a Napoli che oltre all'attività di ricerca ha avuto questa capacità di non fare infettare nessuno adesso non so se poi negli ultimi tempi si è infettato qualcuno e lo Spallanzani anche perché perché erano pronti sotto quel profilo avevano tutte le locazioni però scusatemi per dovere di cronaca vi dico che c'è un errore lo Spallanzani sicuramente un infettato ce l'ha qualcuno Bandecchi no per me ce ne ha almeno due detto questo uno lo conosco personalmente quindi lavora lo Spallanzani fai il medico è infettato appunto vuol dire che è infettato io ti posso Stefano come sai la dimensione comunque sarebbero sempre numeri molto bassi voglio dire perché ripeto la media che ha accolto le regioni del nord è moltissimo legata ovviamente alle prassi davvero purtroppo clamorosamente errate del primo contenimento negli ospedali diciamo dove ci sono stati i primi casi sono stati registrati i primi casi questo è un elemento fondamentale perché quando si contagia un medico o un infermiere a rischio ovviamente c'è tutta la popolazione che afferisce a quel presidio sanitario ovviamente quindi c'è una particolare attenzione detto questo l'altro elemento strategico è stato l'aggressione fuori casa cioè come sapete nel Lazio e in altre regioni si è fatta il Veneto per esempio è stata un'altra regione che l'ha fatto pur avendo avuto un focolaio molto importante a voi come sapete andare alla ricerca del virus e non attendere che in qualche maniera questo gli scoppiasse in faccia e questo è un altro elemento molto importante e quanto a quello che stiamo poi assistendo la vera tragedia è che questa circolazione ha comportato che in alcuni in questa diciamo questo fenomeno dei contagi nell'RSA che è particolarmente drammatico perché di fatto si sono si è innescata una trappola perché queste persone purtroppo li stavano non potevano che stare e quindi insomma una tragedia scusami Moretti però voglio lanciarti una provocazione la voglio lanciare anche al rettore e lo risottolineo è una provocazione io ho un po' di perplessità sul fatto che la sanità del Lazio sia stata eccellente e la sanità della Lombardia o del Piemonte o del Veneto o dell'Emilia o della Liguria non siano stati eccellenti io primo penso che sia stata una botta di fortuna secondo credo che siano stati forse più bravi cittadini terzo credo che noi avendo meno industrializzazione meno giro di persone e meno affari da trattare ricordiamoci che mi dispiace dirlo ma insomma sono delle regioni dalla Toscana in su che comunque pagano il 57% delle tasse italiane ora detto questo hanno evidentemente un gettito fiscale enorme hanno anche un lavoro enorme perché se no sarebbe come dire che le zone più disastrate d'Italia scusatemi perché non mi risulta che la Calabria che la Campania che la Sicilia siano le zone più industrializzate della nazione però sono quelle che hanno avuto meno problemi in assoluto allora io devo cominciare a cercare un'altra soluzione a parte la sanità perché ancora oggi Piemonte e Lombardia ripeto è una provocazione ma stanno in una mezza tragedia perché mille mille malati dei mille e novecento sono Piemonte e Lombardia allora in Piemonte e Lombardia continua la sanità non capisci una mazza cioè dobbiamo trovare qualche spiegazione anche diversa secondo me è una provocazione no no ma Bandecchio io credo che il direttore non volesse dire che noi abbiamo io io sono partito con Roma e Napoli perché mi è sembrata una bella cosa però le cose che ha detto lei sono sacrosante è evidente che qui siamo stati fortunati ma anche come ha detto Moretti per il fatto che ad esempio il paziente zero uno e due la coppia cinese è subito andata dallo Spallanzani e invece al nord magari è capitato erano a Roma ragazzi ragazzi l'hanno trovata a boccheggiare dentro un albergo non uscivano più dalla camera dice questi due che cosa hanno fatto la cameriera è entrata ha detto anche i muri hanno la temperatura a 38 è arrivata un'ambulanza mi dovete perdonare però c'è qualcosa che bisogna trovare una spiegazione ulteriore cioè vi voglio dire una cosa la fortuna che abbiamo avuto a Roma Rettore lei nella sua università ha avuto oltre 1300-1400 persone per tre giorni che arrivavano da Milano da Brescia dalla Liguria e da Palermo e da Bologna tutti mescolati guardi che c'è stata una grande fortuna che nessuna persona della sua università si sia ammalata di coronavirus perché tra quelle persone poi abbiamo saputo che alcuni tornando a casa loro erano ammalati sì sì certo certo e allora voglio dire bisogna cercare un po' più di attenzione certe cose perché io oltretutto il 4 liberi tutti io non avrei fatto aprire Lombardia e Piemonte tutti buoni a casa altri 15 giorni quando tutto diminuisce se ne riparla perché il fatto stesso d'avete fatto venire via dalla Lombardia e dal Piemonte e dall'Emilia e dalla Liguria e dal Veneto il 4 partiranno treni a oggi non c'è un biglietto libero per un treno che vada al sud con partenza a Milano sono tutti prenotati ora è vero che saranno uno sì uno no ma ragazzi tante persone che partono e vengano a casa saranno tutti sani sicuramente ma per me è una gestione della fase 2 che fa ride proprio cioè se ci va bene è perché il coronavirus ha finito e ha esaurito la sua potenzialità non c'è altro motivo perché la gestione della fase 2 fa ribrezzo cioè non è non c'è gestione della fase 2 c'è un impanicamento prima stavamo tutti chiusi in casa perché eravamo tutti impauriti ora la paura è passata tutti a mare se ci va bene ci va bene ci va male ci va male punto e vi dirò di più secondo me non avranno nemmeno il coraggio più di richiudere perché l'economia è talmente a pezzi che chi se ne frega di quanta gente morirà per strada è una provocazione mi sento di sentire e tanto per cominciare cerco di spacchettare il dato allora intanto al nord non tutti si sono comportati alla stessa maniera e non tutte le sanità che dico io purtroppo per ragione diciamo costituzionale è delegata e devoluta come piacerebbe dire a qualcuno alle regioni e non è più ovviamente governata a livello centrale proprio per questa ragione noi abbiamo stiamo assistendo abbiamo assistito a una grandissima differenziazione tra la reazione che ci sono state nella Lombardia per esempio nel Veneto e prendo due regioni non a caso governate dalla stessa forza politica però permettimi di dire con una grandissima differenza strategica nelle scelte fatte a livello regionale e se posso dire per chi conosce ovviamente come funzionano i sistemi sanitari in quelle regioni parliamo delle tre regioni che inizialmente sono state subito colpite in maniera molto dura ed erano praticamente alla pari Lombardia Veneto ed Emilia Romagna Emilia Romagna e Veneto hanno una struttura della sanità moltissimo concentrata con le eccellenze moltissimo concentrata sulle strutture pubbliche in Lombardia invece dove ci sono ovviamente delle enormi eccellenze nella sanità purtroppo queste eccellenze sono molto legate alle strutture private io credo che se il virus ha circolato per un paio di mesi o un mese e mezzo liberamente forse dico forse e perché magari in alcune RSA noi stiamo assistendo ahimè alla tragedia a cui stiamo assistendo e l'inchiesta sul trivulzio e su altre lo sta a testimoniare è perché queste strutture per una serie di ragioni certi dati forse non li hanno fatti emergere con la dovuta tempistica d'altro canto se andiamo con i servizi con i servizi segreti di varie nazioni a cercare la Cina che magari in ritardo ha comunicato una serie di cose io penso che in Italia a breve o già da adesso con qualche inchiesta stiamo cominciando a scoprire qualcosa direttore in Germania mi dicono che non ci sono i dati per sapere la verità in questo momento l'ho letto stamattina sul vostro giornale non ho capito dove in Germania mi dicono che la Germania non ha ancora dato i dati per sapere la verità c'è un problema enorme di trasparenza da questo punto di vista lo stiamo denunciando dal primo minuto a me la cosa che più colpisce di tutte queste devo dire la verità il dato più enorme per me è il dato del Piemonte perché ve lo ricordo il Piemonte ad inizio di questa pandemia diciamo in Italia viaggiava sui livelli del Lazio pur essendo geograficamente molto vicino soprattutto il Piemonte ovviamente orientale alla Lombardia parliamo di Pavia parliamo di quelle zone che sono diciamo fondamentalmente confinanti oggi che io devo trovarmi a distanza di oltre un mese e con tutto quello che era già successo cioè fallimenti e invece successi e vittorie che si sono avute sul campo con esempi molto diversificati dalle varie regioni che il Piemonte si trovi nella situazione attuale la trovo veramente incredibile e paradossale quindi io penso che per fare un primo bilancio da questo punto di vista e poi vengo al discorso del 4 maggio e il bilancio secondo me deve essere che alla fine di questa storia noi dobbiamo riflettere seriamente se il modello costituzionale italiano dal punto di vista delle grandi emergenze e partiamo dall'emergenza sanitaria è un modello che può essere mantenuto io dico di no se il nemico non fosse stato un virus ma un nemico esterno vero cioè una nazione magari che ci che ci metteva in pericolo noi avremmo avuto una situazione probabilmente paradossale per cui alcune regioni magari sarebbero tese ad allearsi con questo nemico cioè io credo che dobbiamo riflettere seriamente molto seriamente su una cosa che ha scritto il mio direttore proprio ieri il giorno del 1 maggio insomma sul suo fondo cioè sul concetto di unità del paese perché di fronte a questa emergenza ci stiamo trovando ad avere i più grandi problemi nella polverizzazione delle decisioni e nel fatto che alla fine più o meno ognuno cerca di fare come gli pare poi vengo a chiudo sul discorso del 4 maggio e sì probabilmente il rischio esiste ovviamente io penso però un'altra cosa penso che a me sembra che il comportamento della gente voglio vedere la parte del bicchiere mezzo pieno a me sembra che la gente in Italia fondamentalmente per quello per come noi siamo abituati a raccontarci e per come ci raccontano all'estero sinceramente la reazione del popolo italiano è stata una reazione incredibile perché questo è un popolo che a differenza di quello americano per esempio che dopo 15 giorni in lockdown c'ha la gente in piazza con giubbotti antiproiettili e gli SC70 in mano cioè qui in Italia questo non è successo io come tu dici giustamente ricordi io ho comprato giubbotti antiproiettili adesso manca il fucile ma lo sto cercando diciamo che allora in Italia non c'è questa cosa qua adesso poi se tu gli americani sono andati in armeria appena scoppiato il coronavirus pensavano di sparare e molti sono delusi in questo momento perché non si sono trasformati in zombie per ora e non si sono riusciti soprattutto a trovare a sparargli no però questo aspetto qua è un aspetto che secondo me va sottolineato va sottolineata un'altra cosa secondo me ne parlavo proprio oggi con un'attrice che faceva un ragionamento su questa storia lei è venuta da Londra tra l'altro mi ha raccontato di quello che stava facendo di come lei è scappata da Londra per come non volevano accettare che ci fosse che stesse arrivando uno tsunami pazzesco e per fortuna c'è riuscita diciamo lei è il figlio però la cosa che ci siamo che ci siamo detti da questo punto di vista qua del fatto che con tutto quello che abbiamo dovuto accettare file enormi per il supermercato insomma file per qualsiasi cosa io non ho dovuto registrare sul messaggero fatti di cronaca particolari una rissa qualcuno che si picchiava perché magari non ha rispettato la fila ecco ci sarà stato probabilmente qualche caso del genere però sinceramente abbiamo dimostrato un grande senso civico obiettivamente sì obiettivamente gli italiani sono stati migliori del proprio governo senti ma voglio farti una domanda dato che mi sembra che in passato ora che voglio dire ho ricollegato il cervello tu ti occupassi anche di calcio giusto sì per tanto tempo l'ho fatto è una domanda detto detto perché nel giornale sono anche la vecchiaia piano piano fa effetto uno ricostruisce e così via detto questo posso fare tre domande di calcio dato che anche il calcio secondo me è un po' sta un po' sclerando insomma perché io ho fatto da inviato di tutto sport all'epoca tante di quelle partite alliberati addirittura a volte non parliamo del liberati che già c'è la miseria c'è tutte le volte il palo di calcio tutti mi parlano del liberati io qui sono in veste di conduttore non di presidente della ternana calcio però io te lo voglio dire perché è una realtà che conosco molto bene no ma io voglio capire una cosa prima domanda la serie A riprenderà o non riprenderà perché negli ultime ore ho visto un po' di gente che non ha ben chiare che cosa vuole fare cioè tutti se ne stanno fregando di cosa ha detto l'aspetto sanitario insomma cosa succederà riprenderà la serie A o non riprenderà guarda io penso che la serie A riprenderà diciamo il governo italiano sta aspettando la Merkel come ogni tanto gli capita per altre ragioni siccome a breve la Germania dovrebbe prendere una decisione sulla Bundesliga la Merkel chiude la Merkel chiude invece penso di no non lo so adesso guarda ti posso dire oggi ho riposato non ho sentito i miei colleghi nelle ultimissime notizie però la verità è positiva in una squadra tedesca mi ho sentito bene in una squadra tedesca quattro malati di coronavirus all'interno ma gli allenamenti vanno avanti aspettano ad arrivare al trentesimo ammalato comunque io sul calcio ho un'idea che è un po' diversa da quella del mainstream ovvero io penso che il calcio dovrebbe provare a ripartire io penso che del calcio ci sarebbe stato un grande bisogno in questo tempo perché perché io credo che ci sarebbe stato bisogno e c'è stato bisogno di grandi momenti di intrattenimento della gente perché la gente è stata costretta ovviamente a vivere una vita che non era la propria e i momenti di intrattenimento sono quelli che hanno salvato se ci sono riusciti la sanità mentale di un paese noi adesso impattiamo sul discorso del virus ma quello la cosa più seria con la quale dovremmo confrontarci è quella ripeto dell'impatto psicologico che tutta questa storia ha avuto ha e avrà perché la depressione sarà enorme le psicosi saranno tantissime e perché un sacco di gente perderà il lavoro quindi l'ansia e per esempio l'insonnia sapete che l'utilizzo di psicofarmaci è aumentato in maniera drastica in questo in questo in questo periodo quindi insomma il momento dell'intrattenimento secondo me le crisi di panico sono in aumento del 15% a livello nazionale sono una cosa impressionante ed è normale che sia così è normale che sia così è normale che sia così allora io dico questo che credo che proveranno veramente a fare di tutto per ripartire penso che sia giusto che lo facciano credo che la filiera del calcio sia una filiera anche dal punto di vista economico molto importante non soltanto per la Serie A ma per l'effetto di ricaduta che avrà su tutto lo sport italiano voglio ricordare che giustamente qualcuno dice il finanziamento allo sport italiano adesso non arriva più direttamente dal dal tutto calcio che era legato ovviamente alla Serie A fondamentalmente ma arriva dallo Stato no signori arriva dallo Stato in ragione del fatto che il calcio produce una erogazione di fisco intorno al miliardo e duecento milioni l'anno e di questi quattrocentotrenta ne vengono rigidate a tutto lo sport sono quattordici miliardi di scommesse no? Tanto per cominciare quello che è un gettito che l'Italia ha perso diciamo già lo stava cominciando a perdere perché c'era stato appunto il decreto povertà se non ricordo male insomma che aveva zoppato anche quella filiera e non mi pare che nel frattempo diciamo la ludopatia si sia fermata in Italia sinceramente ma allora la serie A riparte la serie B e la serie C perché i presidenti della serie B non hanno i soldi hanno detto non lo so alcuni non hanno i soldi quelli della serie C do per certo mi fai venire la tentazione troppo forte di chiederla a te come? mi fai venire la tentazione troppo forte di chiederla a te no no ma io non è che io voglio stare io sto a guardare sto seduto aspetto i ripescaggi no ho detto aspetto i ripescaggi no scusate non lo volevo dire vabbè detto questo no non lo scrivete detto questo no è comunque adesso il problema sai cosa che mi incuriosisce di questa storia è che se noi diciamo che il cinema il teatro per esempio giustamente vogliono fare di tutto per poter tornare a esistere perché poi noi ci siamo salvati grazie ai film e alle serie TV ma se non girano quest'estate l'anno prossimo se ricapita il virus non ce l'abbiamo più le serie TV da vedere perché non si girano ok però al netto di questo c'è sicuramente un afflato una simpatia superiore il calcio è riuscito a generare un'antipatia impressionante nei propri confronti che secondo me è anche abbastanza immotivata o meglio motivata da un'arroganza che io spero ma non confido che in qualche maniera sia stata di ammonimento al calcio stesso io non ci credo tanto perché un po' li conosco questi coccodrilli li ho frequentati li ho frequentati per una trentina d'anni e temo che insomma in genere sono passati attraverso 5.000 volte attraverso il cerchio di fuoco io non credo che il calcio si faccia amare si farà amare perché la gestione la gestione del mondo calcio attualmente è una gestione non fatta secondo me in maniera corretta cominciando dal fatto che nelle serie minori bisognerebbe andare a vedere come si tengono in piedi alcune squadre io penso che sia così effettivamente che sia un po' un mondo a parte che quando fai vedere gli indicatori economici anche delle grandi squadre alle persone che lavorano nell'economia ti dicono che non è possibile che queste siano in piedi ma in realtà è un po' come il teorema del calabrone che la fisica dice che non potrebbe volare in realtà vola ma questo però non succede soltanto in Italia attenzione è un po' come il coronavirus sembrava che fosse un problema nostro che eravamo noi invece il virus è il virus e il calcio guardate ha da questo punto di vista grandissime similitudini il vero timore di fronte ai pauperisti d'accatto a cui ogni tanto bisogna dare ascolto o quantomeno ci tocca ad ascoltare io voglio ricordare che se il calcio italiano si rimpoverisce dopo che è passato attraverso una fase molto brutta della sua storia ricordiamo che il campionato italiano era il primo campionato del mondo attualmente è la quinta lega del mondo la quarta lega per fatturato quindi ha perso delle posizioni clamorosamente rispetto ad altre filiere come il resto d'Italia insomma abbiamo perso posizioni su tutto in parte sì certamente insomma diciamo aveva tenuto il manifatturiero vediamo come esce da questa Boretti basta vedere i nostri economisti sì oddio c'è anche da vedere che forse anche sui virologi di cui sapete adesso uscirà l'album dei virologi come l'album Panini la cosa curiosa non so se l'avete vista c'è una classifica di Forbes che è stata pubblicata proprio ieri oggi non mi ricordo insomma effettivamente nel ranking mondiale tutti quelli che noi vediamo in televisione che ascoltiamo anche noi intervistiamo tutti i giorni non è che siano tutti in zona Champions League ce ne sono pochi in zona Champions League degli italiani capito? volevo dirlo insomma lo so c'è qualcuno che è proprio in zona retrocessione il rettore il rettore dell'università Nicolò Cusano direbbe perché gli americani hanno un modo diverso di fare delle valutazioni sulla ricerca scientifica io da imprenditore direi che gli americani come gli inglesi la ricerca scientifica la fanno sulle cose che portano denaro mentre noi italiani continuiamo a capire come mai Garibardi non sposò alla fine concretamente Anita punto ora interesse sicuramente importante lo dico agli storici però bisognerebbe in certi casi spostare anche le nostre attenzioni su quei come dire quelle operazioni che interessano al mondo la comunità europea tutti gli anni stila una una lista delle cose più importanti da ricercare perché nei prossimi 15 anni saranno di grande interesse gli italiani le ignorano e continuano a guardare come mai Garibardi aveva una scarpa di un numero e una ad un altro va bene ma Garibardi era una persona importante e quindi va bene con Garibardi quando invece si parla di economia siamo proprio alla frutta con gli oroscopi va bene direttore io ti ringrazio per essere venuto in questa trasmissione ti ringrazio di averci portato queste indicazioni non parlerò mai più di calcio con te perché vedo che sei troppo appassionato di calcio e adesso ho notato due Moretti un Moretti che parla oggettivamente e obiettivamente di coronavirus un Moretti che quando si parla di calcio si perde è cambiata l'espressione del viso cambiavo tutto meno male che non si è messo una maglietta addosso e ha detto io tipo questa squadra non mi dirò nulla guardate io ho fatto giornalista sportivo per oltre 25 anni sono stato a capo di una redazione ho lavorato 17 anni dentro un giornale sportivo che era tutto sport è un mondo che conosco molto bene e tantissimi di questi li conosco proprio personalmente ne conosco le traiettorie le storie personali ho avuto la fortuna di vivere a Roma come capo della redazione di Roma il periodo per esempio d'oro della Lazio e della Roma dei due scudetti consecutivi è stata proprio una fortuna dell'entrata in borsa delle squadre ho seguito giustizia sportiva nei momenti degli scandali che sono stati diciamo che hanno fatto la storia non solo del calcio italiano ma anche di quello mondiale per cui posso dire di essere una persona abbastanza esperta e anche esperta del contrasto sempre o del rapporto molto particolare che c'è tra la politica la politica politica e la politica sportiva intesa soprattutto come calcio e sto assistendo adesso a delle posizioni un po' particolari perché vedo per esempio presidenti che dall'inizio hanno dichiarato forfè immaginando evidentemente di salvare se stessi e salvare anche i bilanci delle proprie squadre pensando di continuare a incassare gli stessi soldi senza dare la prestazione allora io mi chiedo in quale altro settore c'è di peggio c'è gente che non ha ancora pagato gli stipendi dal mese di marzo e non intende pagarli perché se non si gioca non li vorrà pagare comunque lasciamo sta voglio farti un'ultima domanda così una tua idea ma la coppa italia di serie c si giocheranno le finali o no va bene una domanda senza un interesse particolare però è una domanda va bene e allora va bene uno fa una domanda a caso e subito scoppia un bordello va bene troppo tempo che non sento il presidente Chirelli che sicuramente si sta trovando a gestire una patata bollentissima allora una cosa la voglio dire un po' a 360 gradi riguarda tutti quelli che devono prendere decisioni in questo momento non ci dimentichiamo mai che stiamo affrontando una cosa che era totalmente inimmaginabile non solo in Italia perché noi dobbiamo ricordarci anche delle figure di tolla che hanno fatto gli uomini più potenti del mondo pensate a Trump cioè se la coerenza fosse un valore in politica quello non dovrebbe più stare sul proscenio Johnson ha vinto il premio glielo manderanno adesso a fine della situazione Johnson tra l'altro ne ha pagato anche le conseguenze sembra quasi una punizione divina nei suoi confronti una munizione più che una punizione una munizione che poi si è salvato fortunatamente per fortuna esatto c'era anche il bambino piccolo in arrivo però insomma devo dire che io non vorrei essere proprio nei loro panni perché sinceramente rispetto a una situazione del genere è chiaro che ti devi fidare tanto per cominciare degli esperti ma gli esperti sono gli stessi che a partire dall'organizzazione mondiale della sanità ci hanno detto mascherina no tutto il contrario di tutto Alvaro Moretti sono d'accordo con te il tempo è tiranno Moretti il tempo è tiranno nemmeno io vorrei stare nei loro panni perché mi starebbero stretti di spalle e largo sull'addome detto questo ti saluto Moretti ci vediamo prossimamente ciao grazie buona serata grazie va bene detto questo rettore siamo rimasti in due come sempre hai detto scusi lei ha detto prima che mi ero perso lei ha detto prima che non ha buone notizie nemmeno oggi ha buone notizie oggi è aggiornato il primo maggio granché di economia tranne le chiacchiere sul decreto di maggio ormai continuano a chiamarlo decreto aprile è una cosa curiosa bandetti lo continuano a chiamare decreto aprile sì è una cosa curiosa perché non lo è più perché pare che maggio lo vogliono chiamare aprile abis infatti e quindi continuano tutte le chiacchiere adesso introduttive io spero che una delle cose buone che c'è che ci è stata annunciata è l'inizio dei finanziamenti a fondo perduto per 8-9 miliardi l'abbiamo detto qualche sera fa si ricorda io spero che questo lo mantengano perché è un piccolo segnale verso quei settori che sono veramente disperati senza passare per banche senza passare per altre modalità soldi senza obbligo di restituzione ma lei si è maturata l'idea di come mai le banche non hanno risposto cioè siamo alla fine della trasmissione sarebbe un discorso lungo però bandecchi ti ricordi una cosa le banche hanno tutti i difetti hanno avuto i ritardi no ma lei lo sa perché lei mi dica questo perché guardi domani voglio fare una trasmissione di 6 ore dedicato a lei per parlare di questo argomento lo sa o no? io si conosco tutte le procedure posso risponderle lei non ci deve dare una spiegazione di sintesi perché le banche hanno fatto questo sgambetto al governo ma guardi questo allora andiamo in sfere differenti io le posso dire che le banche si sono trovate in difficoltà perché mi voleva parlare della procedura così un blocchetto dell'assegno un bonifico no guardi scusi ho parlato con 10 direttori di banca oggi e tutti mi hanno detto la nostra direzione non ci ha detto cosa dobbiamo fare ma questo mi risulta fantascientifico però se me lo dice lei ci credo che le devo dire i direttori di banca sono così alzano le mani perché guardi che i clienti chiamano e dicono ma ho visto ho sentito in televisione che mi dovevi dare i soldi in questa maniera e quello dice sì però non ho la procedura sto aspettando aspetta un attimo infatti questo questo però in parte è da spiegare è da spiegare lei lo sa spiegare domani glielo faccio spiegare perché domani io le do 15 minuti tutti i suoi per spiegare questa cosa me ne bastano 5-6 allora 5-6 domani gliele do il sicuro però deve spiegarci questo fatto perché che le banche che i direttori non sappiano ancora cosa deve succedere è mostruoso va bene direttore vedo che per lei il tempo è finito sta guardando il cellulare c'è già l'appuntamento questa sera mi sono ferito mentre parlavo guardi non ho il cellulare in mano beato lei che questo lo potrà raccontare anche un giorno ai suoi nipoti in tempo di coronavirus eravamo ormai a due mesi e sono rimasto ferito a un dito mi sono levato una pellicina e sono sanguinato bravo non svenga se no domani non ci vediamo arrivederci a tutti il lettore sta per svenire andiamo via tutti arrivederci per adesso arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti